Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in questo nuovissimo video di Minecraft per telefono sempre in questo mondo perché volevo farvi vedere cosa ho cambiato, cosa ho aggiunto eccetera eccetera poi come al solito ho i balletti bellissimi e ho equipaggiato anche questo balletto in cambio di il balletto che saluta qua tutti i balletti ok e poi ho pure fatto un'armatura in nederite incantata guardatela ok più pure questa spada in nederite incantata vabbè ma non ero qui per farvi vedere la mia armatura e tutte queste cose qua ma appunto cosa ho cambiato allora e qua come potete vedere ho spawnato un coso qua e al posto dell'ossidiana c'è che nella parte di sopra c'è messo l'ossidiana piangente e quella di sotto l'ossidiana normale quindi stonks vabbè ho voluto fare questa cosa qua c'è un buco un secondino un secondino ok poi questa casa che è la casa di FuriousFere64 che forse porterò qualche video con lei vabbè questa è casa sua che è rimasta uguale vabbè vabbè qua è work in progress vabbè poi qua c'è una cassa e questo qua vabbè e già sapete com'è perché non è cambiata poi c'è casa mia che pure questa non è cambiata come potete vedere uguale vi faccio vedere piano di sopra ok vabbè qua è rimasto uguale con sempre le stesse cose dentro ok poi qua è la piscina e qua invece è cambiato qualcosa che ci sono questi cosi colorati attorno più queste barre più ho aumentato anche c'è più ho allargato anche gli slime così era tutto più bello e niente poi pure questo non è cambiato anzi si è cambiato qualcosa cioè che io ho spostato le torce di redstone ma a parte questo non è cambiato assolutamente niente poi la torta la pizza ecco che non mi ricordavo il nome e qua ho levato quella parte che è tipo alzata perché mi sono accorto che era veramente troppo brutto e quindi ho deciso di levarla poi dentro è uguale sempre con le stesse cose come potete vedere ok e poi qua c'è sempre la cacca dove si può andare in bagno e fare i bisognini ma vabbè non è cambiata poi qua c'è il coso in cui si può buttare con le litra in altissimo e vedere tutto il mondo ok poi qua la stalla è cambiata è un po' più decorata e niente e poi la cosa che è cambiata di più vabbè qua è sempre il coso vabbè continuo la cosa che è cambiata di più è questa casa che ora questa casa era in vendita allora come potete vedere è cambiata di un sacco e comunque questa casa l'avevo messa in vendita però poi l'ha comprata un mio amico che forse farò un video anche con lui e niente questo è cambiato di un sacco come potete vedere ci ho messo i vetri non quelli da marroni marroni azzurri come che aspetti erano ma io ho messo questi qua perché sono molto più belli vabbè poi ovviamente poi il mio amico la decorerà come vuole lui ma si ha i suoi gusti e siccome invece il giallo c'erano questi letti gialli e vabbè volevo farvi vedere questa cosa e niente ora vi voglio far vedere un pochettino com'è il mondo da sopra con l'elitra e niente aspettiamo intanto faccio così ok ah si e poi e ho anche equipaggiato il mantello che non posso farvelo vedere perché c'è mi secco ad andare in seconda persona e andiamo ok ok eccoci qui andiamo di qua ok i razzi ok ok buttiamoci e sta piovendo fail e ricominciamo da capo che è meglio anche perché è incominciato a piovere quindi not stonks ok siamo arrivati ok vabbè quello era un piccolo fail ok quindi ora perfetto così si se magari carica ok quindi spero che questo video vi sia piaciuto ora vi farò vedere com'è il mondo con l'elitra e quindi spero che questo video vi sia piaciuto come al solito se questo video vi è piaciuto lasciate un bellissimo like poi sempre se il video vi è piaciuto condividetelo con tutti i vostri amici se non siete iscritti al canale rimediate immediatamente cliccando il tasto iscriviti rosso quindi per oggi è tutto e ci vediamo con un prossimo video la prossima settimana ciao ragazzi e finiamo con un balletto epico ok queste queste auto lo fanno schifare ciao ragazzi comunque mi sono scordato di farvi vedere queste lampade che si accendono solo di notte e le ho aggiunte perché non si vedeva niente di notte quindi le ho volute aggiungere per esempio se ora mettiamo mettiamo notte ecco infatti come potete vedere si accendono e se invece mettiamo giorno ecco e si sono spende vabbè mi ero scordato di farvi vedere questo piccolo particolare e niente ciao ciao Grazie per la visione